Musica Buonasera, apriamo parlando di politica dopo due giorni di Consiglio regionale all'Aquila con il rischio di una crisi di maggioranza nel cuore della notte è stato approvato il bilancio della regione Abruzzo. Germana Dorazio Il Consiglio regionale ha approvato a tarda notte, dopo quasi 14 ore di discussione, la legge di stabilità regionale del 2017 e la legge di bilancio di previsione finanziaria del 2017-2019 I provvedimenti hanno incassato il voto contrario dei gruppi consigliari del Movimento 5 Stelle di Forza Italia del gruppo misto Abruzzo Futuro e Nuovo Centro Destra Un bilancio di tagli che paga i mancati trasferimenti dello Stato e un disavanzo certificato di 720 milioni di euro Il debito sarà ripianato con rate da 51 milioni di euro fino al 2025, come imposto sotto la vigilanza della Corte dei Conti Una giornata convulsa quella dell'approvazione segnata anche dall'esplosione dell'ennesima crisi di maggioranza con Olivieri e Di Matteo che hanno partecipato al voto solo dopo la sottoscrizione di un patto per la ridistribuzione delle deleghe Gerosolimo, assente per malattia, è arrivato all'Aquila solo per firmare il documento, senza partecipare ai lavori dell'Assemblea Il Centro Destra ha definito la manovra a cefala Il Movimento 5 Stelle ha dato battaglia senza risultato per le proposte, tra cui il reddito di cittadinanza e i fondi per le case popolari È il migliore possibile alle condizioni date, ma noi dimostreremo che continuerà anche il lavoro di risanamento Ma intanto esiste anche la sede della conferenza Stato-Regioni dove drenare e attirare nuove risorse Il mio lavoro è di andare lì e di convincere per prendere nuove risorse E subito arrivano anche i malumori dopo l'approvazione del bilancio I primi a farsi sentire sono i residenti di Fontanelle a Pescara perché si sono visti tagliare i capitoli di bilancio proprio per l'edilizia residenziale Alfredo Primante Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, sceglie il quartiere Fontanelle di Pescara per dire la sua a poche ore dal Consiglio regionale che ha approvato il bilancio di previsione 2017 Nella periferia popolare di Pescara, dice Pettinari, c'erano grandi aspettative rispetto alle promesse in materia di edilizia fatte dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso che solo qualche settimana fa aveva effettuato un sopralluogo tra le palazzine Ater e annunciato fondi per la loro ristrutturazione Pettinari, che sottolinea come siano stati bocciati tutti gli emendamenti proposti in materia e non solo dai pentastellati si fa portavoce della delusione dei cittadini e dei rappresentanti dell'Associazione Insieme per Fontanelle e annuncia una manifestazione di protesta sotto la sede della regione Abruzzo Che cosa aveva promesso e che cosa non ha mantenuto secondo voi? Sì, risorse, quindi stanziamenti economici sui capitoli destinati alla monotenzione delle case popolari e noi l'abbiamo messo di fronte alla realtà abbiamo presentato un emendamento che prevede proprio questo stanziamento di risorse e lui ha detto no, hanno detto no quindi questo è il problema principale è una cosa che naturalmente i cittadini non possono concepire non riescono a concepire, si sentono presi in giro ci sentiamo anche noi presi in giro Il quartiere Fontanelle, così come Rancitelli, ha tanti problemi a partire dalla delinquenza per finire al degrado e all'abbandono delle case i residenti dei due quartieri periferici del capologo adriatico sottolinea Nello Raspa, presidente dell'Associazione Insieme per Fontanelle avevano sperato in questa manovra di bilancio e nel finanziamento del progetto di recupero della zona ma si dicono pronti ad incontrare nuovamente D'Alfonso per ricordargli le sue promesse La vera fregatura è che lui venne qua con un progetto e ci disse addirittura che quello era un progetto da 2 milioni e 500 mila euro che avrebbero messo per ristrutturare tutte le case del quartiere Fontanelle addirittura disse che avrebbero stanziato altri 2 milioni e 500 mila euro per il quartiere di Rancitelli e qualcosa in meno per le Gescal però io oggi vengo a sapere che di tutto quello che ha promesso non ne ha mantenuto una Il presidente D'Alfonso ci ha incontrato ci aveva promesso di stanziare dei soldi in bilancio per la ristrutturazione di questi palazzi e adesso ha il dovere di compiere questo atto quindi di stanziare questi soldi nel bilancio perché è venuto qui a dirci questo Pochi milioni di euro anche per i capitoli di spesa delle aree protette Vediamo Non è servito a molto il presidio permanente con una manifestazione davanti ai cancelli del Consiglio regionale delle associazioni ambientaliste dei rappresentanti delle riserve regionali e del Parco Sirente Velino per la partecipazione delle comunità locali la cui economia è sostenuta spesso in maniera considerevole proprio dalla presenza delle aree protette Alla fine per le aree protette sono stati stanziati 2,5 milioni complessivi che saranno divisi tra le decine di riserve e il Parco regionale Sirente Velino al quale andranno almeno 500.000 euro che saranno appena utili per pagare le spese di gestione della macchina del Parco Rosario Natale, il responsabile del WWF Aree Protette minacciava la vigilia della protesta di riconsegnare le chiavi delle riserve Le Oesi, le riserve naturali regionali che sono finanziate sono 20 parliamo di circa 150 persone che lavorano e che sono costrette da anni al precariato perché ovviamente ogni anno abbiamo queste incertezze noi abbiamo chiesto alla regione di stabilire dei livelli minimi insieme noi le abbiamo stabilite appunto su queste somme che sono di 2 milioni di euro per il funzionamento diciamo delle singole riserve più una parte di 500.000 euro che dovrebbero servire per i servizi di rete che attualmente non esistono e quindi per quanto riguarda per esempio la promozione turistica congiunta, la progettazione europea il cofinanziamento anche su più anni che viene richiesto dalla regione per questo abbiamo chiesto un piano triennale e noi siamo qui ci siamo messi in discussione, siamo disponibili ovviamente a lavorare perché non abbiamo paura di darci dei traguardi diciamo anche ambiziosi Dopo le dimissioni di Renzi, dopo il cambio al vertice del governo l'Abruzzo conserva il suo sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli, la senatrice abruzzese mantiene il suo posto spiega che c'è da continuare il percorso già iniziato per provare a salvare almeno due dei tribunali, dei quattro che grazie alla riforma Monti sono destinati a chiudere in Abruzzo siamo tutti d'accordo che la strada può essere una proroga della chiusura dei quattro tribunali Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona da inserire nel prossimo mille proroghe serve tempo per proporre al governo una modifica della legge Monti e salvarne due tra le deleghe importanti del sottosegretario c'è anche quella delle carceri stiamo lavorando ad una struttura di falegnameria nel carcere di Sulmona ma soprattutto a dialogare con gli imprenditori per portare il lavoro dietro le sbarre Ora ci spostiamo a Teramo c'è stato il bilancio di fine anno da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri migliorano i dati sui reati comuni e sul contrasto allo spaccio di stupefacenti aumentano purtroppo le truffe agli anziani ci dice tutto Tania Bonici Castelli E' un bilancio più che positivo quello stilato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo per l'anno 2016 diminuiscono del 15% il numero complessivo di reati perseguiti tra questi scendono vertiginosamente i furti nelle abitazioni meno 25% e le rapine mentre aumentano i sequestri di sostanze stupefacenti Un 2016 con risultati migliori in che in particolare? In particolare nell'ambito del contrasto alla lotta alla droga Noi quest'anno abbiamo elevato il livello dei servizi, le investigazioni ci sono state tante indagini in materia di stupefacenti e siamo riusciti ad arrivare ad un risultato di oltre 16 kg di droga sequestrata non solo cocaina, non solo eroina, ma anche maruviana che viene coltivata nell'ambito del territorio terramano o nelle province limitrofe E poi scendono i furti, scendono le rapine, insomma i delitti in genere? Sì, abbiamo una netta diminuzione dei furti, circa il 20% e soprattutto dei furti in abitazione che sono quelli che creano maggiore allarme locale Durante il 2016 sono state tante di importanti le operazioni di servizio svolte dal reparto operativo e dalle compagnie di Teramo, Giulianova e Albadriatica soprattutto in ambito della prevenzione Ma se i furti e le rapine diminuiscono c'è un nuovo reato che si sta diffondendo pericolosamente, quello delle truffe agli anziani Quali truffe e voi che cosa fate per prevenirle? Le truffe che sono in costante aumento purtroppo sono quelle a danni degli anziani o comunque delle persone che sono socialmente più deboli persone che sono spinte da gesti d'amore nei confronti dei propri figli oppure nei confronti dei propri nipoti, delle persone a cui ci tengono particolarmente Infatti queste persone, i truffatori, colgono proprio in questa sfumatura Dicono che sono trattenuti presso le caserme dei carabinieri oppure hanno bisogno di un avvocato per poter essere liberati perché hanno causato un incidente o perché hanno comunque avuto a che fare con le forze dell'ordine Questo non è assolutamente vero, la maggior parte viene telefonicamente ma nessun carabiniere, nessun agente delle forze dell'ordine chiamerà mai il caso di una persona per chiedere dei soldi per rilasciare un proprio congiunto La novità per il 2017 sarà l'apertura di centri d'ascolto in tutti quei piccoli comuni terramani dove non è presente la stazione dei carabinieri L'obiettivo è la maggiore vicinanza ai cittadini È un bilancio negativo quello degli operatori commerciali del porto di Pescara 2016 Da dimenticare ora l'unica speranza per il rilancio è quella dei lavori previsti per il piano regolatore portuale Sentiamo Il 2017 sarà l'anno decisivo per il porto di Pescara e il suo futuro Si dovrà capire infatti se il capoluogo adriatico attraverso il suo scalo marittimo potrà avere ancora un ruolo di rilievo nei traffici nazionali ed internazionali Da questo punto di vista sono preoccupati gli operatori commerciali che ritengono fondamentale per la struttura il prossimo anno anche alla luce di quanto accaduto in questo 2016 con l'insabbiamento dei fondali dello scorso luglio che ha portato all'interruzione pressoché totale di ogni attività all'interno dello scalo commerciale Difficoltà che ancora oggi perdurano a causa del mancato inizio del mini dragaggio d'urgenza che consentirebbe almeno alla nave cisterna Galatea di tornare in porto per non parlare poi della fine del collegamento turistico assicurato dalla SNAV fra Pescara e la Croazia È possibile ipotizzare per l'estate 2017 un ritorno anche dei turisti? Io credo che non ci siano possibilità perché il dragaggio che è previsto per far tornare perlomeno come dicevo prima la cisterna prevede un quantitativo piccolissimo che permetterà appunto se tutto va bene l'ingresso della cisterna in sicurezza ma sempre con un pescaggio molto ridotto non superiore ai 3 metri Quello che chiedono gli operatori, le compagnie di navigazione per quanto riguarda il trasporto passeggeri e nello specifico la SNAV che ha assicurato in tutti questi anni i collegamenti da Pescara e della Croazia sono fondali di almeno 5 metri Per quanto potete ancora andare avanti così? Noi siamo proprio con l'acqua alla gola insomma come si dice noi adesso purtroppo tanti dipendenti sono già stati licenziati i mezzi meccanici delle imprese portuali sono stati messi in vendita o rottamati ripeto l'unica speranza è che effettivamente nel 2017 si dia un'accelerata definitiva a tutte le opere sia di apertura della diga, di costruzione della barriera soffolta e in modo particolare del dragaggio, di un dragaggio che spero che se ne faccia più di uno e di inizio dei lavori del piano regolatore portuale con l'apertura del nuovo canale Ora ci spostiamo a Lanciano dove l'associazione Nuovo Senso Civico lancia un nuovo allarme su quanto avviene nei dintorni della centrale a biogas di Villa Pasquini dove di recente un incidente ha portato allo sversamento di liquami che ora sta creando problemi in tutta la zona A ridosso della centrale a biogas di Villa Pasquini si è formato un fiume di melma malodorante di circa un chilometro che dall'impianto arriva in prossimità di un nucleo di abitazioni Il fiume malodorante scorre in prevalenza sulla superficie del tracciato del canale di bonifica della zona ossia di quella condotta di tubi interrati che portano l'acqua per l'irrigazione dei campi e che, attraverso una pompa di sollevamento, la trasferiscono anche in altre zone di campagna più a monte L'ipotesi è che il canale di melma si sia creato dopo lo sversamento della centrale avvenuto nel mese di ottobre Il percorso della materia putrescente, infatti, pare sia compatibile con la fuoriuscita dagli impianti della centrale Su quanto sta accadendo a Villa Pasquini, l'associazione Nuovo Senso Civico ha presentato alcune denunce dalla magistratura e altre ne sono annunciate Annuale conferenza del sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro, che fa il bilancio del suo 2016 e snocciola anche i dati L'Isale Uzzo Sindaco, il bilancio del 2016 e conferenza di fine anno oggi qui in Comune, come è andata? Il 2016 sicuramente è stato un anno orribile per quanto riguarda gli effetti del sisma Per quanto riguarda l'attività amministrativa Giulianova è sicuramente stata molto positiva Basta pensare che nel campo delle opere pubbliche abbiamo speso oltre 2 milioni di euro realizzando il campo sportivo Tiberio Orsini, il Castrum per oltre 1 milione di euro aspettava da 40 anni la città Abbiamo completato il lavoro di messa a norma e di miglioramento antisismico di alcuni plessi scolastici come la scuola elementare di Amicis con oltre 550 mila euro o come uno dei nidi, le coccinelle in zona orti con oltre 450 mila euro Tante opere di manutenzione Pensate all'ambiente dove Giulianova anche quest'anno si è attestata al primo posto superando il 70% di raccolta differenziata Oppure nel sociale abbiamo garantito anche quest'anno 70 pasti gratuiti a domicilio alle persone meno abbienti abbiamo continuato a raggranellare con il fondo di solidarietà grazie al dimezzamento delle indennità del sindaco e degli assessori che ho voluto nel giugno 2014 abbiamo raggiunto 250 mila euro che abbiamo distribuito in interventi nel sociale oppure all'edilizia sociale che ho voluto a Giulianova stiamo realizzando 18 alloggi di edilizia sociale in via Bellini Pensate al turismo, anche quest'anno nella stazione di riferimento della provincia di Teramo abbiamo ottenuto la fermata del Frecciabianca 110 passeggeri circa al giorno e nel turismo i dati sono veramente confortanti in controtendenza rispetto a trend Giulianova quest'anno ha aumentato del 3% le presenze dell'anno scorso che già erano state importanti con 550 mila presenze pensate al mercato ittico che abbiamo rilanciato affidandolo a Giulianova patrimonio che sta diventando un fiore all'occhiello della città con il rilancio di via Leorsini con la rimessione delle radici che abbiamo approvato e partiranno i lavori nel marzo con via Nazario Sauro che verrà riqualificata il primo tassello di una riqualificazione del Lido quindi molta carne al fuoco e un saluto a tutti coloro che voglio, spero avranno un 2017 migliore Il sindaco Maurizio Brucchi questa mattina ha presentato la nuova scuola antisismica di Teramo Dopo il sisma del 30 ottobre a Teramo il sistema scuola cambierà l'obiettivo è quello di avere scuole sicure e non necessariamente sotto casa e comunque edifici che rispondano al grado di vulnerabilità dello 0,8% previsto dal commissario Errani Dei 33 edifici scolastici del capoluogo la metà rispetterebbe questi parametri per gli altri sono in corso le verifiche e poi partirà la progettazione per i nuovi poli scolastici intanto però il 2 gennaio inizieranno i lavori della prima scuola antisismica a Collaterrato che caratteristiche avrà questa scuola? Sarà una scuola con un ampio spazio esterno dove i bambini potranno anche fare attività didattica all'esterno un edificio monopiano con caratteristiche innovative sugli impianti per quanto riguarda il fotovoltaico e tutto l'impianto di scaldamento a pavimento insomma tutte quelle novità che ora sono diciamo nella quasi obbligatorietà dell'edilizia innovativa In quanto tempo la costruirete? Abbiamo l'obbligo di terminarla entro l'anno io penso che ci sono tutte le premesse per poterlo fare Il sistema scuola a Teramo cambierà e la costruzione di questa nuova scuola è l'inizio? Ma sì, questo è intanto come dire un primo passo secondo me importante nasce questa nuova scuola materna con fondi che non sono quelli del terremoto che sono fondi precedenti circa un milione e tre per 150 posti, 150 bimbetti di una materna che verranno ospitati nella scuola di collaternato è una buona notizia i lavori cominciano il 2 gennaio che è un'altra buona notizia cercheremo di completarli assolutamente entro la fine dell'anno perché completandoli entro la fine dell'anno potremo usufruire anche del ribasso e quindi fare anche il secondo lotto e quindi dotare la scuola di ulteriori servizi è una scuola moderna è una scuola che ha un livello di antifismicità avrà pari a uno e quindi come dire il massimo che si può avere e quindi siamo contenti e soddisfatti che siamo riusciti ad arrivare a questo inizio lavori che oggi è sempre abbastanza complesso e difficile quindi il 2 gennaio inizieranno i lavori a collaterrato Un anno di iniziative culturali quelle del 2016 e poi la preoccupazione di non poterle proseguire per il 2017 a fare il resoconto e il bilancio dell'anno che si chiude è l'assessore alla cultura di Pescara Giovanni Di Giacomo Abbiamo avuto quest'anno oltre 300 iniziative culturali in tutta la città una città che ha un grandissimo dinamismo dal punto di vista della proposta culturale e siamo riusciti a intercettarla bene le linee con le quali abbiamo avuto queste iniziative sono tra uno del mantenimento delle grandi e storiche iniziative di questa città come il Flaiano il Pescara Jets e il ritorno di fuori uso nella nostra città poi di robustire quelle iniziative che hanno loro storie città che durano da diversi anni e che sono state molto amate la città parliamo del Funambolica del Festival delle Letterature dell'Indie Rocket Festival e di altre iniziative che hanno comunque oltre dei decenni che sono in questa città e ormai possono considerarsi diciamo adulte e poi abbiamo un'altra linea quella di poter sostenere e implementare tutta la creatività di questa città e quindi sperimentare nuovi linguaggi nuove proposte culturali nuovi settori di che la città non aveva vissuto appieno negli anni passati e questo ci ha condotto a avere una stagione molto piena continueremo a uno prossimo grandi obiettivi abbiamo l'obiettivo della città della musica che contiamo di riuscire a rapire per fin anno per la città e poi il Teatro Michetti sta andando avanti anche da quel punto di vista e anche per quanto riguarda la rete culturale della città stiamo facendo cose significative perché il Museo Vittorio Colonna un gioiello al centro della nostra città stiamo facendo sui fattibilità per esternalizzarlo per poter far sì che diventi veramente il centro pulsante l'arte contemporanea di questa regione non semplicemente una bella struttura sottutilizzata Presepi in mostra tutto l'anno l'iniziativa arriva dalla sezione di Lanciano dell'Associazione Amici del Presepio vediamo nasce con l'obiettivo di mantenere viva la tradizione del Presepio durante tutto l'anno la mostra permanente dell'Associazione Italiana Amici del Presepio sezione di Lanciano allestita tra i vichi del centro storico nel quartiere di Santa Maria Maggiore all'interno i visitatori potranno ammirare i presepi realizzati da maestri artigiani attraverso l'arte del Diorama il presidente Giovanni Rosselli il Diorama è una rappresentazione tridimensionale di un paesaggio che uno vuole raffigurare in questo caso inerente al presepe può essere rappresentata una natività o una qualsiasi altra scena della vita a questo punto di Nostro Signore e la scena può essere palestinese può essere popolare comunque Diorama vuol dire guardare attraverso una finestra un'inquadratura e ci permette di vedere un paesaggio tridimensionale cerchiamo di mettere in evidenza soprattutto oggetti di vita quotidiana che oggi non si trovano più in effetti molti giovani che vengono a visionare i nostri diorami i nostri presepi trovano oggetti di vita quotidiana che io da ragazzo conoscevo ma sono scomparsi l'associazione nel corso dell'anno promuove anche laboratori per tramandare l'arte del presepe quest'anno i soci hanno realizzato un'opera di 5 metri fonte grande su scala 1 a 10 esposta al diocleziano nell'ambito della rassegna Riscopriamo il presepe ad Atessa invece nella chiesa di San Domenico è possibile ammirare i diorami realizzati dalle quattro sezioni abruzzesi dell'associazione Amici del Presepio in occasione della prima mostra itinerante che resterà aperta fino all'8 gennaio nel 2019 ha annunciato infine Rosselli si terrà a Lanciano il convegno nazionale che l'associazione organizza ogni anno in una città diversa con la partecipazione di centinaia di soci Apriamo la pagina dello sport la serie A il Pescara Pescara che domani tornerà a lavorare in vista del match dell'8 gennaio contro la Fiorentina intanto la società è attivissima sul mercato preso Stendardo e si cerca un altro difensore favorito è Bovo in attacco Budimir a un passo così come l'ex laziale Ledesma e ora si punta sull'Empolese Girardino vediamo il Pescara domani torna al lavoro in vista della ripresa del campionato e avrà in più anche Guglielmo Stendardo come primo rinforzo in difesa c'è anche via libera dell'Atalanta il 35enne Napoletano sarà in Abruzzo per la firma sul contratto non sarà l'unico rinforzo dietro ma su questo fronte oltre a Cesare Bovo che comunque rimane l'uomo più vicino al club biancazzurro ci sono anche delle alternative perché sul 33enne del Torino la concorrenza è forta c'è anche il Palermo che preme e allora il Pescara nonostante continui a metterlo in cima alla lista dei desideri valuta anche Luca Krainc che alla Sampdoria ha collezionato solamente una presenza per di più in Coppa Italia molto più complicato l'affare che porterebbe a Marco Andreoli giocatore in esubero all'Inter ma il Delfino sta stringendo per altri due tasselli importanti il primo è in mediana con Cristian Ledesma che ha rescisso il contratto con i greci del Panatinecos e sarebbe vicinissimo all'accordo col club adriatico in settimana ci sono stati ulteriori contatti tra le parti e nei prossimi giorni verrà presa una decisione per bocca dello stesso presidente Sebastiani la fattibilità sarà valutata insieme al tecnico Massimo Odo nelle prossime ore al rientro dalle vacanze altro colpo in addirittura d'arrivo è quello del croato Ante Budimir nel canale con la Sampdoria di Marco Giampaolo che finora non ha concesso alla punta lo spazio che si aspettava in questo senso i biancazzurri possono mettere sul piatto anche la carta Valerio Verre che tanto piace ai blucerchiati prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza del Pescara questa è la formula per consegnare all'allenatore la punta croata ex crotone in grado di concretizzare la mole di gioco sviluppata in mezzo al campo anche in questo caso non sarà l'unico arrivo perché Odo vorrebbe abbinare Budimir ad un altro bomber Paloschia era una pista difficile diventata impraticabile con l'addio all'Atalanta di Piniglia molto più in discesa quella che porta ad Alberto Gilardino anche se l'Empoli che sta per chiudere con Alberto Grassi in mezzo al campo e che potrebbe disfarsi sia della punta che di Marsebuch in direzione in Abruzzo non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente l'attaccante potrebbe decidere di cambiare presto aria e Pescara sarebbe la piazza perfetta per rilanciarsi e provare a centrare la salvezza Gilardino dovrebbe prima rescindere con i toscani e poi scegliere la sua nuova destinazione con l'ex centravanti della nazionale e con Budimir il Delfino avrebbe un attacco davvero in grado di piazzare la rimonta salvezza in più proprio con l'Empoli e in piedi l'idea Marcel Buchel che Leone apprezza tantissimo e che sarebbe l'incastro perfetto se davvero Grassi raggiungesse Martuscello chiudendo la strada al mediato del Liechtenstein con l'Atalanta che chiuderebbe il cerchio prendendo un ex biancazzurro come Mandragora dalla Juventus insomma domani il Pescara torna a sudare ma sul fronte mercato lavora senza sosta la rincorsa la permanenza in Serie A passa anche da qui ora la Lega Pro domani il Teramo chiude il suo anno a Bassano nei biancorossi non convocati Jefferson che sul piede di partenza è forte che dovrebbe avere lo stesso destino Altobelli fuori dalla lista perché febbricitante e stamattina ha parlato in conferenza il tecnico del Teramo Lamberto Zauli lo ascoltiamo io voglio pensare sempre a cose positivi insomma non penso a eventuali errori che possono succedere perché giocando possono succedere noi dobbiamo fare una partita con grande determinazione ogni singolo giocatore deve pensare alla propria prestazione a voler essere protagonista quello che le dico sempre e cercare di vincere i duelli individuali perché poi il calcio è vero che è un gioco collettivo ma fatto di tanti duelli individuali quindi preparare la partita a voler vincere tanti duelli individuali spesso il risultato è positivo noi in queste ultime partite abbiamo buttato via punti preziosissimi per palle inattive quindi in questo momento oltre a tante altre cose per carità è la cosa da migliorare più di tutte il campo ci sta dicendo questo e quindi ci abbiamo dedicato qualche allenamento in più come ho detto prima per creare più attenzione su queste palle inattive noi siamo qui per cercare di vincere le partite per migliorare la classifica quindi anche se Bassano è una squadra forte noi andremo lì sicuramente cercando di fare una partita coraggiosa di determinazione di grinta di mettere qualità tecnica perché senza queste difficilmente esce a Bassano con dei punti Bassano lo conosciamo bene tanti giocatori importanti ha qualche probabilmente defezione cosa che ci interessa relativamente è una squadra che negli ultimi periodi ha alternato buoni risultati con dei stop ha fatto un'ottima partita a Reggio qualche giorno fa e quindi è una squadra con qualità con gamba con giocatori di esperienza quindi è una squadra costruita per stare tra le prime 5 o 6 il mio primo obiettivo quando rientri è cercare di creare squadra ma creare squadra vuol dire che tutti i componenti si sentono protagonisti e lottino per arrivare a un risultato sul fatto dei punti non è questione di un ruolino interno o esterno quando tu stai lottando per uscire dai play-out hai bisogno di trovare continuità e la continuità è il primo obiettivo da centrare per cercare di uscire dai play-out è chiaro che adesso andiamo a Bassano è un campo difficile ma noi abbiamo bisogno di punti quindi tutte le nostre concorrenti in questo turno hanno partite difficili e noi vogliamo cercare di sfruttare l'occasione andando facendo punti a Bassano ora vi facciamo vedere come i tifosi del Teramo hanno salutato i giocatori prima della partenza per l'ultimo match del 2016 con un manifesto uno strescione a posto proprio fuori dallo stadio Bonolis con scritta di inizio stagione nessuna pretesa particolare una categoria da difendere e una maglia da sudare il nostro augurio per il nuovo anno conquistare la salvezza con 11 leoni in mezzo al campo è tutto anche per questa edizione il prossimo appuntamento con l'informazione del Tg6 arriva domani nell'edizione delle 14 grazie per essere stati con noi